Allora, vi stavo parlando del presente, è un guaio che non esiste il presente. Bravo dottore, bravo, con la disoccupazione che ci sta in giro è un guaio, Salvador Amici. Ma bu, ma non è, dottore, il passato poi ci stava bene. Ma che c'entra la disoccupazione? Gli sto dicendo un'altra cosa. Scusate. Per essere felici bisogna saper vivere il presente, quando il presente non c'è e non si è felice. Tutti sono capaci di dire, oh come ero felice quando avevo vent'anni, e poi non è vero, perché non si era felice a vent'anni. Tutti sono capaci di vivere proiettandosi nel futuro. Farò, dirò. Il saggio invece è colui che realizza il presente. Il saggio è colui che quando ha sete beve, sente l'acqua fresca che gli scende per la gola e pensa, oh quanto è bello bere. Il saggio è colui che quando ha fame mangia e mentre mangia pensa, oh quanto è bello mangiare. Una bella tavolata, tutti insieme. D'altra parte, d'altra parte, come diceva Hegel, come diceva. Non lo so, tutto quello diceva tante cose, Hegel, ma chi si ricorda. Hegel diceva, il tempo è come l'essere, mentre è non è e mentre non è è.